Era sfuggita ai sigilli dopo un primo sequestro, ma anche la villa da cinema che aveva fatto costruire nelle campagne di Misilmeri era stata messa su, panetto su panetto. Nuovo provvedimento nei confronti del 49enne Francesco Antonino Fumuso, considerato boss della famiglia mafiosa di Villabate e signore della droga che per anni era riuscito a far arrivare fiumi di Asish e altri stupefacenti, soprattutto dal nord Italia, sui mercati palermitani e non solo. Ammonterebbe ad un milione di euro il valore dei beni sequestrati dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che ha accolto la richiesta del questore del capoluogo Guido Longo, sintetizzata dopo diversi accertamenti patrimoniali nei confronti di Fumuso e della sua famiglia, per i quali è stata riscontrata un'assoluta discrepanza tra quanto dichiarato e le proprietà acquisite negli anni. L'arresto per Fumuso, dopo un primo datato 2009, arrivò nel luglio scorso a margine di un blitz nel quale finì in manette anche il figlio Antonino, poi scarcerato a settembre insieme al provvedimento di dissequestro della villa milionaria, allora considerata acquistata lecitamente. Fumuso senior fu accusato di aver tentato di portare in Sicilia ben 420 kg di Asish dall'Emilia Romagna e per questo, differentemente dal figlio, fu trattenuto ai domiciliari per motivi di salute, rispondendo dei reati di ricettazione, traffico internazionale di autorubate, favoreggiamento, bancarotta fraudolenta, aggravata e soprattutto detenzione spaccio di stupefacenti.